Numero 3, nomina revisione del conto del premio 2013-2016. Voi sapete, se vi è sfuggito magari, a marzo da Silvia Antonelli ci ha fatto recapitare le dimissioni del carico di revisione legate al conto. Per solito, insomma, la procedura adesso, la legge dice che è la prefettura che deve nominare, deve scegliere il revisione dei conti con un sorteggio telematico. Questo è avvenuto giovedì perché si è stati convocati, dopo numerosi solleciti da parte del segretario, di questo lo ringrazio per la collaborazione che ha offerto, si è stati convocati il giorno 23 maggio e ha partecipato il segretario. Questo sorteggio telematico che è venuto in prefettura, perché oggi la procedura è questa, ha dato tre nomi. Lorenzini Loredana, Gambini Filippo Ricomaria, Pellegrini Claudio. Sì, è tutta gente di via, e sembra che la prima, la Lorenzi Loredana, che abita a Milano, di via Luigi Veranini, Luigi Veranini, è vicino alla stazione Granitalli, abitata a Milano, e ha comunicato che accetta l'incarico, ovviamente lei a Milano si lavorerà tutto tramite... L Donald, R Sw RF, oltre a Capitani. Diremo di lavorare tramite informi? Det Griglio Loredana, Perfetto? Buon appetito, possono fare il spesso e c'è? Si va a fare un'altra volta che le documenti della alternativa mi fa davvero un po' Del documento delouvelle... Eventualmente! È un passaggio delπor, ήσio del P確 onore! Questo localismo fa la datola... Dunque, se vi sono chiesto da fare, in merito, cioè noi più che seguite la procedura, ci può nella legge, dopo il siano. Non si è normale, non si è normale, non si è normale, non si èwormate, non si è normale. Non si è normale, non si è normale, non si è normale. Sarà sicuramente al minimo. Cioè, se ne viste la legge, non mi è stato capito che ci chiedi. Sarà il minimo consentito dalla legge. Tanto a Montoya, soltanto a me. Rinuncia. Ah, ma prenderemo un altro, andiamo avanti così. No. No, ci sono sei quanti mila a fare. Cioè, se ne vado di più... Certo? Sì, no, esatto. E' certo. Ma non ho ripeto la settimana settacola. Ah, no. Cioè, quelle delle sedenze. Certo. 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 E' pazmente. Molta, ehm... Mi ho scelto. Non ho provato una pratica. Ma io sento che non mi ha preso, le scenderemo. Ma che mi ha preso la facoltà? E' una realtà e e ringrazio unseriettino. E' un voce così. Grazie a tutti.